Il governo cerca un'intesa sul nodo balneari e propone una proroga per le gare dal 2025. I concessionari chiedono un tavolo tecnico per far valere le loro ragioni, ma gli imprenditori sardi, assicura un docente di diritto della navigazione, non corrono rischi con le nuove regole. Elena Laudante. Possibile proroga di un anno alle gare per le concessioni balneari dal 2024 al 2025, ma solo in caso di contenziosi o di problemi dei comuni nell'espletare i bandi. E' l'apertura del governo per superare l'impasso sul DDL concorrenze in Commissione Industria del Senato. Gare da rinviare il più possibile per le associazioni di categoria che puntano a un tavolo tecnico che recepisca le loro richieste nei decreti attuativi. Ma da selezioni trasparenti l'isola non ha nulla da temere. Spiega il docente di diritto della navigazione dell'Università di Cagliari, Massimiliano Piras. Perché non abbiamo quelle grandissime stenzioni di R1000 che richiedono fortissimi investimenti di denaro. Abbiamo forse più piccole realtà gestibili appunto a livello familiare o quasi familiare. Forse dovremmo anche lì ragionare un po' meno da sardi, perdonatemi il luogo comune, e pensare che si potrebbe anche offrire un prodotto coordinato per regione o forse meglio per aree. Bandi pubblici imposti dalla direttiva Bolkestein mai applicata in Italia. I balneari dicono sì a gare ma solo su nuove concessioni e solo dopo una mappatura del demanio marittimo idrico. Si dovrebbe evitare che la mappatura volete utilizzata come scusa, come pretesto per superare ancora una volta il regime di proroga e nel contempo però avviare un sistema ben fatto di selezione.